perché i greci fin dall'antichità sono stati costretti ad emigrare il territorio greco e prevalentemente montuoso i greci fin dagli albori della propria storia sono stati costretti ad emigrare abbiamo due ondate emigratore principali una prima ondata verso oriente una seconda ondata verso occidente in italia meridionale i greci fondono diverse colonie realizzano diverse città fondono diversi insediamenti l'insieme delle colonie fondate nel sud italia prendono il nome di magna grecia grande grecia la cultura nata nel sud italia dopo la di greci divenne così di alto livello al punto di superare la madre patria pensiamo ad archimede pitagora sono coloni greci del sud italia sono greci ma vivono in italia meridionale la cultura greca influenza tutta la cultura occidentale in modo particolare influencerà l'italia e in italia le colonie greche lasceranno un'impronta indelebile nella storia della cultura occidentale l'italia e in italia